Allora, vabbè, si dicono sempre queste cose qua, ma penso che sono, le dice vuol dire che sono vere, quindi spero sicuramente di crescere, di sfermare le cose che ho imparato in questi anni e di stare bene con il gruppo, con i tifosi, con lo staff, perché ci sono tantissime buone qualità, buoni propositi, è una città che su me può dare tantissimo e come squadra spero veramente che possiamo fare un campionato, un campionato nostro, nel senso che dobbiamo guardare a noi stessi, tenere dritto degli obiettivi che raggiungerli, senza stare a sentire troppo le voci di mercato, le voci di pettegolezza, non so come dirle, dobbiamo veramente guardare noi. I mondiali sono alle porte, è una cosa grande, è una cosa molto bella, quindi spero di godermi al massimo questa esperienza, spero che torneremo in Italia contenti, senza rimpianti, perché comunque anche noi come squadra, tutti magari se lo meritiamo, però anche noi ce lo meritiamo, abbiamo lavorato tanto, quindi spero veramente che possiamo fare bene e portare un bel risultato all'Italia. Grazie.